Come essere mortali, il titino alla morte. Ah shit, here we go again. E niente, Sailor Moon Day no. Capítulo 8, Sailor Moon Day no more. E credo sia l'ultimo capitolo. Wait, what? Incredible! Get a crew down there! Benny, what are you waiting for? I'll cancel the flower arrangement. Did you call an ambulance? Um, they... They don't need one. What do you mean? Eh 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 eh. Um... Sfondamento! Sfondamento! Noi magari. Ho appena avuto l'accidentamento. Sono serio, ti chiedo di io molto più spesso. Per potere di no, possiamo anche sfondare le pareti. Diretti. Oh wow. Oh wow. no 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 No, I want you to marry me Oh my I want you to win my job and opening a bakery Can you play our wedding? Yikes, laugh is real, truly inspirational Incredible It's incredible, just what's happening here All because of a single intern and a single lunchbox The lunchbox, let's get the intern's lunchbox back Do you have an appointment? Actually, yes, I called earlier Should be down as I'm coming off The Miss CEO, it's your 7 p.m. meeting with the unruly mom It's regarding the lunchbox What are you doing? Don't just let them in No Eh, I'll do this right now It's time for everyone here to say yes And I'll do this right now No, let's say no Saying yes is a positive It's a positive Yes is good Yes is good You said yes to this job I am a good Yes is good Yes is good How dare you stop it this instant This lunchbox is mine Yikes It's a good No I am the CEO Oh! I have worked hard to get where I am. And I will not tolerate you trying to ruin everything I've made. You don't have to force us to work 100 hour weeks like you. You could have ended the cycle, but you chose to keep it. I'm doing you a favor. I chose to give you the same opportunity as I had. You don't even have to work as many hours as I did. You could become like me if you'd only play by the rules and say yes! What do you call it a favor? We are working for you! We don't get paid enough in general. Especially not to also deal with the fragile personalities of our bosses. Yeah, you can't work as hard as 300 of us, but you earn that much. That's because I basically did the work of 300 people. Now I get to earn the money that I deserve. The money from the company I worked hard to make. That's not even about the money. Yeah, we just want to like being at work. What are we even sacrificing our lives for? Well, I chose to suffer and endure it all. And now I'm rich and I'm happy. Are you happy? Now! Ah, che bello! Che faccio le ho fatte qui. This lunchbox is mine! You cannot take this away from me. I deserve this! You think I wanted to be open all the time? To just accept whatever dumb, menial ta- This is... Oof. Oof. We know you're a person, too. No, you don't understand. You don't get how stupid it is to have to say yes all the time. You don't know how hard it is to be happy all the time. To pretend to be strong when you feel so weak. To pretend to be happy when you feel so sad. To have to smile even though you feel terrible inside. Because if you don't, some idiot will tell you to smile! No. We know what- No, you don't get it. I didn't even want to be like this. I wish it were okay to be weak. To be sad. But apparently that makes you selfish. I just don't want to be a bad person. I just want to fit in and be accepted. Now it's all too late to change it anyway. I can't be anyone else now. I mean, what am I even supposed to do? I've just tried to do the right thing all this time. And now it's all wrong? It's all bad? How can I fix this by myself? Now it's all too late to change it anyway. I can't be any- Yeah, Desi. Even though you went through a lot, both in your work life and your everyday life, doesn't mean you have permission to hurt others. You can't just perpetuate harmful behavior. You are in power. It's up to you to stop it for the rest of us. You can be a better person. Make the world a better place. I- I'm sorry. I'm a bad boss. I'm a bad person. I screwed over everything and everyone. And now it's all ruined. Forever. Because of me. No. We can fix this together. Aww. Io con ancora l'aurea dei tutti no? C'era sicuramente un pollo, eh? Oh, sì, c'era l'aventura c'era un pollo! È bello di pensare che tutto ciò che succede in un pollo giorno! Eh, quindi, cosa succede proprio? Ho fatto un giorno, e è come un nuovo office! È un nuovo office! È? Il ultimo si è stato distruttato! Si è? Però, diciamo, la cosa importante è che possiamo dire no ora! Poi, in realtà? Si! È bello! C'era una cosa grande! Lo so! Hey! Can anyone do overtime tonight? Ehm, no. Sorry. Tonight? No. Ok. Don't worry about it. I'll figure something out. Thanks anyway. Oh, wow! See? Oh, you're empty. Do you need a refill? Huh? No. I don't want to bother you. Oh no, I'm going to the kitchen anyway. Don't worry about it. So i vieti di gentili! Oh! Ok. 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 Just one. Hey! Can you copy these papers? Hmm... No, not really. I'm kind of busy. Ah dang! Sorry! Hey! I can give you a hand. Oh! Thank you so much! Oh! 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 Grazie per supportare il mio negozio. Ho un ordine di cucina per voi, questo è... 100 soldi! No! Credo che dovrei dare il mio migliore amico di discount, questo significa che è gratis! L'ordine di cucina, ricevuto. Vi vediamo presto! Finalmente, vediamo cosa c'è dentro! Ed è riso, piselli e pudori. Oh, sembra che sei pronti per lunch. Let's go! Perchè, in un mondo diverso, uno dei nuanzi e ricordi, l'advista per dire no più è in realtà abbastanza male. E magari in un mondo più nuanzi, in un mondo, molte persone non avrebbero così semplice. Ma tutto ciò che mi chiede, è che vivere il tuo vita ogni giorno, essere la migliore personale che puoi essere, dire no a cose che sono nonostante, dire no a cose che causano te oltre, e comprendere il potere che hai, per cambiare il mondo, per cambiare il mondo, e i sistemi che vivi, dire no più, significa quello che dice. Non è solo dire no, non è solo dire no, non è sempre dire no, ma se stai ascoltando questo, magari dovresti considerare l'advista e dire no più! No! 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 Se vuoi fare successo, se vuoi avere successo, devi dire molto spesso sì! Ma questo vuol dire, che tu ti distruggi psicologicamente, e arrivi verso la fine, che tipo, cosa hai raccolto veramente? Cioè sì, sei famoso! Sì, hai soldi! Ma la tua felicità? La felicità degli altri intorno a te? va tutto un po' a puntare, quindi, deve esserci un equilibrio, dir di sì, dir di no! Un equilibrio! Quindi, ragazzi, non dite sempre sì, ma nemmeno, dire sempre no, quindi, un say no more, per chi dice di sì, e un say yes more, per chi invece dice no molto spesso. Tutto qui! Però è un ottimo gioco, finalmente abbiamo finito questa serie! Yeeeey! Però è stato divertente! È stato molto divertente questo giochino qua! Spero di trovare altri giochi simili, che hanno un insegnamento molto particolare, per noi giovani, e per noi persone, per questa nuova generazione! Quindi, spero tantissimo che questa serie vi sia piaciuta! Da India e tutto ci vediamo alla prossima! Se questo video vi è piaciuto, vi sono lasciato una bella disampazione con un mi piace, e noi vediamo di ritrovarci al prossimo è fantastico video! Auuuu!